Nel 2050 l'attuale produzione in campo agrario non sarà sufficiente per poter sfamare i quasi 10 miliardi di abitanti previsti. Sarà quindi necessario sviluppare delle tecnologie, delle metodiche, degli approcci sia economicamente che ecologicamente sostenibili per migliorare la produttività agraria. In questo senso ci vengono in aiuto i microorganismi, microorganismi che sono in grado di fertilizzare naturalmente il terreno. Questi microorganismi tuttavia richiedono, come è stato richiesto per le piante che noi usiamo nella nostra alimentazione quotidiana, un loro miglioramento, un miglioramento che necessariamente deve passare dai loro geni. La ricerca che abbiamo svolto nel nostro laboratorio si inquadra in questo contesto. È una ricerca in cui noi siamo riusciti a prendere uno di questi microorganismi, a studiarlo in dettaglio e a sviluppare delle tecniche di trapianto genetico, possiamo chiamarle. Tecniche che in qualche maniera consentono di produrre dei microorganismi ibridi ma sfruttando la naturale tendenza di questi microorganismi, stessi di questi batteri, a scambiarsi materiale genetico. In particolare siamo riusciti a trasferire oltre un quinto del genoma da meridiosi o melattri. Questa è la prima volta a livello mondiale che viene tentata questo tipo di strategia. Il microorganismo così formato, in qualche maniera, può acquisire caratteristiche positive di più microorganismi e quindi essere poi impiegato come un potenziale bioinoculo, lo chiamiamo, è un probiotico di fatto, in agricoltura per la crescita quindi delle piante.